Contrari Tantillo, Cancilla, Mineo, Volante, Mattagliano, Ferrandelli, Anello e i sei componenti del gruppo Movimento 5 Stelle. Astenuti, non ci sono astenuti, quindi il Presidente. Tutti gli altri favorevoli, l'atto è approvato. Un milione di euro per i lavoratori Reset, 540 mila per l'AMAT, destinati a migliorare i servizi speciali e i bus navetta gratuiti per il centro storico. E ancora un milione per l'assistenza ai disabili e 400 mila euro per il loro trasporto. Ha provato solo in tarda sera il bilancio di previsione 2017 del Comune di Palermo, passato in Sala delle Lapidi con 22 voti favorevoli, 13 i contrari e l'astensione doverosa del Presidente. Un'approvazione del bilancio di previsione che, come specificato in una nota dal gruppo Sinistra Comune, ha scongiurato lo spettro del Commissario fornendo i primi segnali di compattezza e di responsabilità nella maggioranza di governo, votando uno strumento finanziario che darà risposte importanti alle cittadine e ai cittadini palermitani. Contrario, l'intero gruppo del Movimento 5 Stelle, preoccupato da tanti aspetti, ha dichiarato il capofila Ugo Forello, a cominciare dal ricorso all'anticipazione di cassa che rischia di costare ai cittadini 2 milioni e 300 mila euro. Un bilancio che sblocca interventi sul sociale e sulla mobilità, ma anche gli investimenti, secondo l'assessore al bilancio Antonino Gentile, presente durante la votazione come il resto dell'Aggiunto Orlando. Riflette una politica fiscale nuova, non solo per la previsione di maggiori entrate da lotta all'evasione, ma anche perché pone le premesse per migliorare i livelli di riscossione dei tributi e mettere in sicurezza i conti.